Mi chiamo Adami Doriano, ne ho 69, da Verona ho fatto diciamo l'intervento totale sotto e sopra dai provvisori ai definitivi che oggi finalmente dopo un anno li ho messi. Mi son trovato benissimo a livello dal chirurgo, dal plantologo, sono delle persone veramente accoglienti e se c'è dei problemi basta chiedere, verrà spiegato ogni punto. A riferimento diciamo del coordinamento della parte clinica è organizzata bene, delle persone molto socievoli. Questo tempo che si rimane allungato ci vuole per programmare perché sono parecchie persone che vengono in questa clinica di Palmas. Io non voglio dire di più, dico solo di avere fiducia perché merita, la clinica merita. La decisione l'ho avuta attraverso diciamo Facebook, la pubblicità che arriva dentro nel cellulare e ho trovato un grande amico che ha un bar a Verona e mi ha detto che è stato da Palmas, mi ha fatto vedere cosa ha fatto e mi ha detto come ti sei trovato, vai pure che non c'è problemi e ho deciso, sono partito e sono arrivato. Benissimo, sono ritornato in Italia quando ho fatto i provvisori, sono rimasti veramente perplessi da come avevo la bocca e ha detto veramente vedo un lavoro fatto come va fatto diciamo sul paziente. Il sorriso, la parte di presenza di fronte è diciamo socievole, l'espressione verso la persona di fronte perché non si può, ti è chiusa la bocca perché c'è la bocca oltre che la bocca stessa, l'aspetto della bocca, la presenza anche è la parte della parte pulita sanitaria interna della bocca e ci si ha delle persone di fronte anche a se stessi è un danno. Benissimo, nessun problema, ringrazio ancora.